Io pratico Pilates da 25 anni. Sono molto sportiva in generale, ho provato qualsiasi tipo di sport che mi massacrano e poi torno sempre a fare Pilates per stare bene. Quindi non c'è nulla che io abbia sperimentato nella mia vita che mi rimetta a posto e mi faccia sentire il corpo sano come Pilates. Questo è il motivo per cui lo adoro e ancora nonostante tutti questi anni non mi annoia.